Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Nonostante un incremento costante dei casi di positività al Covid-19, si mantengono bassi i numeri dei ricoveri in area medica e la situazione in Abruzzo dunque non è allarmante. A dirlo è l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri che parla poi di Green Pass e del ritorno sui banchi di scuola. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Non preoccupa, stando alle dichiarazioni dell'assessore alla salute Nicoletta Veri, l'aumento di positivi nella nostra regione che riguardano soprattutto giovani non immunizzati, visto che i reparti ospedalieri Covid e le terapie intensive fanno registrare un numero non allarmante di accessi. Abbiamo, e questo è l'elemento positivo, i posti liberi sia di terapia intensiva che di area medica e quindi ci fa ben sperare che questo virus, anche se è molto contagioso, però non crea problemi in maniera complessa, in maniera critica, da arrivare poi a eventuali ricovero. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è presumibile nel periodo di ferragosto un calo delle somministrazioni che sempre a detta dell'assessore verranno però recuperate nei giorni antecedenti e successivi. Stiamo seguendo quella che è la media nazionale che ci è stato imposto dalla struttura commissariale, lavoreremo durante il mese di agosto, ci sarà forse, così come in tutta Italia, una sospensione giusto per il 14-15, però compenseremo quei dati nei giorni antecedenti e nei giorni successivi. Poi il Green Pass, la Verisi dice favorevole all'utilizzo del certificato verde, anche in vista della ripartenza dell'attività scolastica in presenza. Il Green Pass è uno strumento valido per mettere in sicurezza, oggi ci troviamo in ospedale e giustamente chi entra in un policlinico deve in un ospedale avere la possibilità di presentare il Green Pass ed è quello che abbiamo strutturato. Nelle strutture, specialmente quelle molto chiuse, dove c'è un grande addensamento di popolazione, è senz'altro uno strumento valido. Noi dobbiamo seguire gli indirizzi ministeriali, ci siamo sempre adeguati a questi indirizzi, oggi abbiamo ancora delle ipotesi, delle certezze, non le abbiamo, quindi appena sarà definito quello che è l'indirizzo, quelle che saranno le linee guida, noi le attueremo. Ok per tornare in presenza a settembre? Senz'altro la presenza è un elemento importante, un elemento in cui la Regione Abruzzo ha dimostrato questa volontà, è stata tra le prime a riaprire, a richiedere la presenza anche quando c'era in atto una pandemia, quindi io credo nella presenza, però in sicurezza. Riaprano le biblioteche abruzzesi grazie ai fondi trovati per le sanificazioni dopo un emendamento proposto dal Partito Democratico, a servizio di Paolo Renzetti. Blasole, oggi in conferenza stampa avete rivendicato il fatto che a breve riapriranno le biblioteche in Abruzzo, grazie all'emendamento presentato dal Partito Democratico, che ha permesso di raccogliere quei fondi necessari per le sanificazioni delle biblioteche. Intanto diciamo che le 12 biblioteche abruzzesi, quindi sparse su tutto il territorio, erano chiuse, erano chiuse perché con un'ordinanza del Presidente Marsiglio si chiedeva la sanificazione, giustamente, ogni 4 mesi di queste biblioteche. L'ordinanza c'è stata, a giugno del 2021 non c'erano i fondi per fare la sanificazione, poi abbiamo scoperto che i fondi mancavano per la sanificazione delle biblioteche, ma anche di tutte quante le altre sedi della Regione Abruzzo. Questo emendamento consentirà di riaprire le biblioteche per agosto, in tempo per il nuovo anno scolastico, in modo che possano tornare ad essere anche sale studio per gli studenti. Ma c'è un problema di fondo, la mancanza di personale. Da settembre del 2020, con le interpellanze discussi in Consiglio regionale, noi chiedevamo di mettere più personale e soprattutto personale qualificato all'interno delle biblioteche. Vi faccio un esempio. Nel 2006 la biblioteca di Giampaolo contava circa 11 persone, adesso ne sono due. Queste biblioteche non possono continuare a funzionare così, serve personale qualificato, serve un'immediata modifica del piano del fabbisogno. Noi ci appelliamo a tutte le forze che credono nella funzione sociale, formativa, istruttiva, culturale delle biblioteche, di starci al nostro fianco, perché comincerà una battaglia seria, forte in Consiglio regionale, perché le biblioteche riaprono con un personale adeguato. È stato il direttore dell'ASL di Lanciano, Vasto Chieti, Thomas Schell, a presentare questa mattina il piano di riordino dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. L'investimento totale è di 49 milioni di euro e porterà ad avere un nuovo pronto soccorso, mentre alcune opere, come il reparti Covid e la ristrutturazione del blocco operatorio, sono già state realizzate. Il servizio. Non un ripiego al project financing, ma di fatto un modo conscienzioso di investire per il bene dei contribuenti. Lo ha definito così il direttore generale dell'ASL di Lanciano, Vasto Chieti, Thomas Schell, il riordino del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Costo totale dell'investimento è 49 milioni. Alcuni lavori sono stati già effettuati, come ad esempio l'adeguamento dei reparti Covid e di rianimazione. Altri, come la realizzazione del nuovo pronto soccorso con percorsi dedicati per pazienti Covid, saranno realizzati entro luglio del prossimo anno. Si tratta di una ripresa dei lavori già iniziato, dopo che è stato abolito il project finance del Policlinico di Chieti. In parte abbiamo già fatto lavori per più di 15 milioni in questi due anni, sia di Covid che di non Covid. E chiaramente noi, anche grazie alla disponibilità della regione di mettere a disposizione università e azienda, congiuntamente 49 milioni. Prevediamo di fare un corpo aggiuntivo, il cosiddetto corpo P, con una serie di medicina e di servizio dentro e un riordino, una ristorazione di tutto il Policlinico. A questo progetto di riqualificazione ha partecipato attivamente anche l'Università d'Annunzio, che in questi mesi si è costantemente interfacciata con la direzione generale, visto che proprio l'Ateneo Teatino mette a disposizione dell'Asl un numero elevato di figure professionali. L'Università ha avuto un ruolo, così si è formato un comitato di, per la prima volta devo dire, un comitato unico di medici ospedalieri e universitari, che mi hanno chiesto di esporre le loro istanze, i loro suggerimenti e devo dire che sia l'Asl che la regione l'hanno accolti molto bene. Io sono molto critico verso il numero chiuso a medicina, un numero troppo chiuso, è un numero troppo chiuso quello degli specializzanti, non è possibile, in Italia mancano 20.000 medici oggi e nel 2050 ne mancheranno 50.000, quindi è una pazzia quello che sta succedendo. Io sono assolutamente contro questo numero così chiuso. Dignità e rispetto, soprattutto alla luce del grande impegno dimostrato in questi anni di pandemia. Per questo gli os della Asl 2 sono tornati a protestare sotto la direzione generale per chiedere stabilizzazione dopo 11 anni di precariato. Il futuro occupazionale di circa 400 tra osse e ausiliari dell'Asl Lanciano Vasto Chieti è a rischio dopo l'appalto scaduto lo scorso 30 giugno. Questa mattina laboratori e sigle sindacali si sono ritrovati sotto il palazzo della direzione sanitaria dell'Asl per un sit-in di protesta e chiedere a gran voce e chiarezza sul futuro che appare drammaticamente incerto. Abbiamo pagato un prezzo anche molto alto, soprattutto in questi anni di pandemia, perché molti colleghi si sono contagiati, abbiamo sofferto, abbiamo collaborato, non ci siamo mai tirati indietro. Quindi io penso che sia un riconoscimento e vogliamo anche una risposta immediata. Non è che possiamo tornare a andare avanti ancora così, perché siamo andati avanti 11 anni e adesso da un giorno all'altro all'improvviso ci hanno cestinato. Quindi vogliamo dare risposte subito, perché ce lo meritiamo. Sì, veramente pensavamo di aver toccato il punto più basso e a me è dispiaciuto sinceramente sentire i lavoratori che rappresento che mi hanno comunicato che erano costretti a fare turni di lavoro improponibili da 16 ore e di utilizzare appunto il pannolone perché la procedura di svestizione era troppo farraginosa e perché rischiavano di contrarre il Covid. Pensiamo che la dignità che è mancata in quel momento debba essere restituita attraverso una procedura di stabilizzazione di questi OS. Qualcuno di loro lavora per la ASL da 10-11 anni e per cui oltre il momento della pandemia in sé per sé hanno dato molto, molto, molto alla ASL e a tutti gli utenti della ASL. Abbiamo dato alla Regione due opportunità per risolvere il problema. La prima soluzione era quella di una legge regionale che riconoscesse il punteggio per quanto svolto nel privato, però all'interno delle strutture pubbliche e questo non l'ha fatto. La seconda opportunità che abbiamo presentato alla Regione è quella della Costituzione di Società in House dove questa struttura pubblica avrebbe mantenuto questi lavoratori nell'ambito del loro contratto di tipo privatistico. Questo avrebbe risolto, tra virgolette, caprecavoli perché le cooperative edditte sono di fatto un'intermediazione del lavoro e quindi sarebbe stata una soluzione anche agevole sotto un punto di vista economico. Presente a sostegno dei lavoratori anche Diego Ferrara nelle vesti di nuovo Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci. Ho letto su alcune magliette OS, eroi invisibili e mi trovo perfettamente d'accordo su questa frase perché io so, perché ho vissuto sulla mia pelle come medico che cosa significa e che cosa ha significato e speriamo che cosa non significherà nel futuro vivere mettendo a repentaglio la propria salute e la propria pelle. Qui si tratta di non un capriccio ma di un'osservazione delle più elementari norme delle regole di assunzione delle persone. Pronta la risposta dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri che dopo l'incontro con le sigle sindacali vede la possibilità di reintegrare nelle varie strutture sanitarie della regione un personale che ha dato tanto e che noi non vogliamo considerare disarie B. Parte in via sperimentale a terra l'utilizzo dei monopattini per muoversi in città in maniera sostenibile. L'iniziativa è stata presentata stamani in Piazza Martiri della Libertà dall'amministrazione comunale. Assessore, finalmente anche a Teramo arrivano i monopattini. Sì, anche a Teramo dopo una serie di iniziative che riguardano la mobilità sostenibile come le colonnine per le auto elettriche o comunque altre situazioni come le corsie ciclabili gli autobus ecologici e tante iniziative che porteremo avanti da qui ai prossimi mesi partiamo oggi con questo servizio sperimentale per capire i terramani come vogliono utilizzare una mobilità alternativa rispetto alle auto e ai motori per poter anche inquinare di meno. Stamattina due società mettono in campo 80 monopattini che possono arrivare fino a 600 da qui alle prossime settimane vediamo poi le calibrami in base alle esigenze in base alle necessità ci sono delle aree dove non si potrà parcheggiare bisogna andare a velocità ridotta abbiamo scelto un sistema di free floating cioè praticamente prenderlo qui e lasciarlo poi da un'altra parte questo appunto per incentivare sempre di più l'utilizzo speriamo che vada bene lo monitoriamo cercheremo di capire le problematiche che ci saranno e cercheremo anche quelle di risolverle man mano che le troveremo davanti Come funzionerà? Ci sarà un'app da scaricare per utilizzarli? Ogni società avrà la sua app e la sua app poi avrà un suo modo di essere gestito attraverso pagamenti online come si fa qualsiasi altro pagamento online tutto molto molto semplice immediato con la speranza che lo possesse utilizzato dalla maggior parte della popolazione La prossima sfida green quale sarà? Nel comune di Teramo La prossima sfida green avremo la prossima data e veramente il primo settembre l'allaccio proprio vero e proprio la prima auto ricaricata elettronicamente a Teramo e poi successivamente partiremo con le corsie ciclabili che da piazzale San Francesco arriveranno su tutta via dei Crispi e successivamente stiamo poi definendo il bike sharing elettrico direttamente qui a Teramo con i nostri fornitori locali E ora ci trasferiamo a Monte Silvano nel mese di agosto con l'affollamento della riviera l'amministrazione comunale ha deciso di rinforzare servizi e controlli da parte della polizia locale vediamo E' partito oggi a Monte Silvano il nuovo servizio di controllo della riviera e della spiaggia da parte degli agenti della polizia municipale questa mattina il sindaco della città triatica Ottavio De Martini si è il comandante della polizia locale Nicolino Casale hanno illustrato l'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale che a breve assumerà anche 12 nuovi agenti Noi abbiamo programmato l'assunzione di 12 vigili che purtroppo è stata ritardata dalla seduta di bilancio che a causa di problemi politico-amministrativi si è protratta e solo la prossima settimana verrà approvato subito dopo si partirà con tutte le procedure volte e rassunzioni ma credo che si arrivi alla fine dell'estate detto questo però devo fare un ringraziamento all'organico della polizia locale che nonostante sotto organico ha comunque e sta assicurando tutto quello che serve ai cittadini e ai turisti che peraltro si stanno comportando in maniera responsabile e quindi non stanno creando problemi come in altre zone è un servizio fortemente voluto sia dal comando che dall'amministrazione e nonostante la carenza d'organico siamo riusciti ad organizzarlo cosa si prefigge questo servizio? innanzitutto si prefigge di combattere il commercio abusivo sulla battigia sia di cose non autorizzate che di cose taroccate ossia marchi fasulli oltre a questi servizi verranno svolti servizi di controllo di assembramenti vari controllo di eventualmente giochi vietati sulla spiaggia tutto ciò che può dare sicurezza ai villeggianti ai bagnanti che stanno sulla nostra spiaggia nasce questo servizio perché c'era l'esigenza di controllare la spiaggia è come si poteva controllare un tratto di spiaggia così ampio certamente non a piedi perché a piedi una pattuglia può fare soltanto un passaggio in questo modo la pattuglia farà 5-6 passaggi sulla spiaggia e quindi la presenza dello Stato e della Polizia sarà molto molto più pregnante Quale fu il legame tra Leonardo da Vinci e l'Abruzzo? Se ne è parlato nei giorni scorsi in un'apposita giornata di studi a Celano Vediamo Bisogna dire questo Era certo che nell'Abruzzo Leonardo sia stato una volta e precisamente in quel dell'Aquila e in quel di Sulmona e questo è storicamente provato non era provato invece di un precedente viaggio che nell'intorno del 1473-72 dello stesso Leonardo nella Marsica è precisamente ospite nel castello di Celano della famiglia Todeschini Piccoloni Dottoressa oggi viene centrato possiamo quasi dire un altro obiettivo a livello culturale per questa terra anche per la città di Celano viene accesa una luce sul legame tra Leonardo e la terra marsicana una giornata di studi intensa una giornata di studi che mira che cosa? Guardi, l'importanza di Leonardo per l'arte fiorita in terra d'Abruzzo è un capitolo tutto quanto adesso da riscrivere nell'ambito delle ricerche che ho effettuato in previsione di questo convegno ma che sono cominciate già moltissimi anni fa credo di aver individuato un filone delle conseguenze che ha avuto la diffusione del trattato della pittura attraverso il codice Lauri che è stato vergato su carta di Celano quindi è nato qui praticamente è circolato tra Celano, L'Aquila e anche oltre e questo trattato è stato letto, studiato da non pochi artisti ha letto e studiato il trattato della pittura Carlo Antonio Grue cioè il più grande artista della maiolica si può dire di tutti i tempi mentre questo personaggio sembra che abbia attraversato tutta la provincia anche sul mondo quindi uno studio su questo personaggio potrebbe significare anche un progetto che unisce la provincia e quindi potete capire che è un motivo di grande soddisfazione oggi essere qui e sentire l'impostazione che viene dal convegno e poi trarre le conseguenze per un progetto di prospettiva non troppo lunga, anche immediata Nel parco fluviale di Teramo c'è il cosiddetto ponte degli impiccati la struttura è stata interessata da una importante opera di recupero Agna Cantagalli Prima fase per riportare alla vita questo ponte degli impiccati che cosa è stato fatto? Beh diciamo è stato fatto un intervento di pulitura avevamo detto da sempre che noi avemmo recuperato questo ponte devo dire grazie a Ditta Marcozzi che ha sponsorizzato questo intervento di fatto a realizzare questo intervento di riportura che è una prima fase noi abbiamo messo in bilancio una somma di 15 metri per il recupero per il restauro di questo ponte dobbiamo andare in questa direzione abbellire il parco significa anche poi recuperare i manufatti importanti che sono lungo il suo percorso quindi Ponte della Noce, Ponte degli Impiccati poi in futuro dovremmo guardare con attenzione al Ponte Stucchi il Ponte Medievale che dovrebbe essere risanato, ristrutturato perché è un luogo bellissimo e piano piano andiamo in questa direzione come abbiamo sempre detto valutare, valorizzare al massimo il parco fluviale perché è un luogo straordinario di bellezza unica soprattutto è un patrimonio che poche città e noi dobbiamo valorizzarlo il più possibile ma stiamo andando in questa direzione intanto c'è stata una prima sistemazione che lo rende fruibile, accoglibile è una discreta situazione di decoro un progetto che abbiamo messo in gambo di circa 8 milioni e mezzo di euro di cui una parte già finanziata per dare un primo segnale importante di attenzione a questo luogo negli anni ci porterà a avere un parco bellissimo che renderà questa città sotto questo aspetto unico Piero Chiarini, prima stava dicendo senza memoria non siamo nulla il Ponte degli Impiccati fa parte della memoria storica di Teramo è una memoria importantissima anche per la tragicità si imbiccavano i delinquenti speriamo che erano colpevoli ma si imbiccavano anche le persone senza processo comunque questo era un luogo storico soprattutto perché collegava anche la parte esterna della città questo era il primo approccio salito questa via dei mulini si trova uno proprio nel centro della nostra Teramo oggi per fortuna grazie al mecenatismo dalla ditta Marcozzi si addiverrà a un recupero completo e dopo un ringraziamento va anche alla nuova amministrazione per questa nuova sensibilità che prima non c'è stata e ora lo sport a fare sull'asse Teramo-Terni in Umbria va Diachite mentre in Abruzzo arriva il portiere Andrea Tozzo ufficiale ad Osmanovic mentre oggi è previsto un incontro a Catanzaro per la cessione di Cianci ai Calabresi Jacopo Forcella Salim Diachite sarà presto un nuovo giocatore della Ternana l'intesa raggiunta ieri tra il Teramo e le fere porterà il Franco Magliani in Umbria facendogli fare quel salto nella cadetteria che dopo la stagione in bianco-rosso il ragazzo stesso sperava di fare così sarà e il diavolo si consolerà con l'arrivo tra i pali di Andrea Tozzo di proprietà Rossoverde ma che nell'ultima stagione ha difeso i pali della porta del Mantova l'arrivo dell'estremo difensore dovrebbe con ogni probabilità ridisegnare le gerarchie tra i pali con Tozzo titolare e Valentini principale alternativa al 22enne di Riva del Garta per Diachite invece la possibilità di misurarsi subito con una realtà di Serie B e provare a ritagliarsi uno spazio nell'undici di Cristiano Lucarelli oltre a Tozzo ufficiale l'arrivo di Azio Smanovic l'ex casertana è vispesa all'arrivo con un contratto di un anno a titolo definitivo dalla Sampdoria l'esperienza che mi ha formato maggiormente sicuramente sono tutti e tre gli anni perché sono cresciuto davvero tanto però quella dell'anno scorso che ho giocato con più continuità con più partite con più presenza prima di essere un grande allenatore sono delle persone comunque davvero splendide che ti aiutano che sono a disposizione 24 su 24 su ogni cosa comunque di Teramo quando mi hanno chiamato non ho esitato non ci ho pensato due volte ho detto subito sì perché conoscendo il Mise conoscendo come lavora il calcio che propone mi sono detto subito di sì speriamo di arrivare il più lontano possibile comunque stiamo in una squadra forte con giovani di grande prospettiva e speriamo di arrivare il più in alto possibile Per quanto riguarda la questione Pietro Cianci nella giornata di oggi è previsto un altro incontro tra Teramo e Catanzaro per la cessione dell'attaccante fallito l'assalto del Palermo prima e poi anche quello del Padova i calabresi sembrano essere i principali indiziate ad accogliere la punta barese ricostituendo in giallo-rosso una piccola colonia di ex Teramo dopo Tentardini e Bombagi che fanno già parte dell'organico di Calabro l'ostacolo principale per la chiusura della trattativa è il 50% sulla futura rivendita che il diavolo deve comunque assicurare all'Alsassuolo questo spinge Biancorossi a cercare di massimizzare l'introito ed ecco spiegato il motivo dei tanti assalti falliti si viaggia nell'ordine economico dei 200.000 euro ma il Catanzaro finora si è fermato a quota 150 a metà strada si potrebbe trovare la quadra e l'ottimismo sul buon esito è testimoniato dal fatto che lo stesso Iachini si è mosso in prima persona per andare a Catanzaro a trattare il centro avanti Vincenzo Fiorillo ha firmato il contratto con la Salernitana ed ha lasciato Pescara Mirko Figliacelli è il principale obiettivo della società Biancazzurra per la sua sostituzione ma l'operazione resta tutt'altro che semplice vediamo Vincenzo Fiorillo ha lasciato Pescara ed ha firmato il contratto che lo lega alla Salernitana a titolo definitivo stamani non era l'appoggio per l'allenamento e a breve l'operazione sarà ufficialmente annunciata un trasferimento già in buona parte definito da alcuni giorni e che dopo le ultime limate e riflessioni da parte della società campana è andato a compimento si chiude così una pagina molto lunga sette stagioni condite da gioie ed elusioni ma con un grande attaccamento alla piazza e un record che resta le 224 presenze da portieri in Biancazzurro Mirko Pigliacelli resta il principale obiettivo del Pescara per la sua sostituzione non si registrano però al momento sostanziali passi in avanti in una trattativa tutt'altro che semplice Pigliacelli è sotto contratto con l'Università Teacraiova e per liberarsi ci sarà quasi certamente bisogno di un indennizzo al club della massima serie romena Pigliacelli non avrebbe difficoltà a scendere in Serie C per una piazza importante che per la prima volta rispetto alle precedenti esperienze punterebbe dritto su di lui ma c'è anche il nodo dell'ingaggio piuttosto elevato che il Pescara dovrebbe garantirgli il presidente Sebastiani e il DS Matteassi hanno comunque sul taccuino anche altre soluzioni come detto i vari Bindi Gagno Pisseri che sono ancora sotto contratto con i rispettivi club resta anche l'ipotesi di Gennaro svincolato e avuto da Auteri a Catanzaro come riferito nei giorni scorsi l'attacco è al completo ed eventuali innesti passano per alcune uscite quella più imminente sembra essere Andrea Di Grazia che è vicino al Foggia dove troverà quello Zdenek Zeman che con il suo 4-3-3 potrebbe esaltarne le caratteristiche situazioni in stand-by per Gennaro Borrelli il giovane possente centravanti andrà via in prestito su di lui ci sono svariati club tra cui Teramo Piacenza e Monopoli ma il giocatore chiede un ingaggio importante e soprattutto la possibilità di essere al centro del progetto tecnico con un ruolo da titolare abbastanza definito le valutazioni proseguono ma il tempo inizia a stringere visto il conto alla rovescia per l'inizio del campionato sul fronte delle entrate resta caldissima la pista che porta Gianmarco Ingrosso in uscita dal Pisa il difensore ex cosenza L'Aquila e Matera a breve dovrebbe legarsi al Delfino e infoltire la batteria di centrali a disposizione di Auteri diramato il calendario del campionato di Primavera 1 con il neopromosso Pescara che se la vedrà il prossimo 28 di agosto per la prima giornata con il Genoa nonostante la retrocessione della prima squadra in Serie C grazie ad una deroga dopo la vittoria del torneo di Primavera 2 i baby biancazzurri dunque parteciperanno al torneo dove giocano le squadre Giovanni del Big i ragazzi di Mister Pierluigi Iervese sono chiamati a realizzare un'impresa per mantenere la massima serie del settore giovanile nazionale contro squadre ben attrezzate e con risorse importanti il TG6 termina qui tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con la nostra informazione i TG6 delle 19 e delle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6 e buon proseguimento e buon proseguimento